Eccoci ritornati in diretta, questa mattina sono contento di avere nei nostri studi anche se solo virtualmente Don Raffaele Aprile che è un amico di Padre Pio TV e questa mattina con noi e per noi ci presenterà la sua nuova fatica letteraria, vocazione all'amore. Buongiorno Don Raffaele, bentrovato. Buongiorno e un saluto a tutti i telespettatori collegati in questo momento su Padre Pio TV. Grazie, grazie per essere con noi. Dunque il testo la cui copertina state vedendo avete visto per meglio dire qualche istante fa in onda è la tua ultima fatica letteraria, ha una copertina eloquente potremmo dire perché testimonia ovviamente lo state vedendo, eccolo qui grazie alla regia, testimonia il tuo amore e il tuo servizio per questa effigie tanto cara alla Chiesa italiana potremmo dire ma più in generale potremmo estendere tranquillamente il discorso, la Madonna delle lacrime, quindi l'amore per Dio e l'amore per Maria. Allora Don Raffaele io ti chiederei da dove nasce questa raccolta che è una raccolta di poesie, è una raccolta di testi in prosa dedicati appunto a Maria e a Dio ma più in generale poi scopriremo anche ad altre tematiche e la tua vena poetica anche da dove nasce potremmo dire? Ma allora questo libro, quest'ultima opera nasce dall'esigenza di arrivare ai giovani e non solo come strumento di aiuto alla comprensione della propria chiamata, della propria vocazione all'amore e di ricercare in qualche modo la volontà di Dio nella propria vita, quindi quante volte appunto cerchiamo di capire qual è questa volontà e allora questo libro vuole essere uno strumento, un aiuto, proprio io lo definisco missionario, proprio per portare agli altri speranza, fede, quindi nasce appunto con questo scopo e chi ha contribuito ai miei libri come in quest'ultimo ha sempre partecipato gratuitamente senza pretesa di nessun genere se non quella di aiutare gli altri a partire proprio dai propri scritti e dai nostri scritti, quindi la chiamata all'amore definita anche da Papa Francesco la vocazione per eccellenza alla quale siamo chiamati tutti, tutti noi cristiani, infatti sappiamo bene che il grande comandamento che il Signore ci ha lasciato è quello appunto di amare, che il Signore Gesù ci ha lasciato è quello di amare, amare gli altri, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e amare il prossimo come noi stessi, cioè siamo chiamati all'amore, alla carità e questa è la nostra vocazione per eccellenza, la nostra vocazione più alta e ad essa è legata anche la gioia della speranza cristiana, chi ama infatti alla gioia della speranza di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore, infatti c'è da dire anche che l'Apostolo Paolo nel passo delle lettere ai Romani ci mette però in guardia, c'è il rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita, ci dobbiamo allora chiedere quando avviene questa ipocrisia, no? Come possiamo essere sicuri che il nostro amore sia autentico, che la nostra carità sia autentica, che non sia una telenovela costruita d'arte? Perché vedete l'ipocrisia può insinarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare e questo si verifica quando il nostro amore è un amore interessato o mosso da interessi personali e quanti amori interessati ci sono, no? E quindi, ecco questo, quindi i servizi caritativi, no? In cui ci prodighiamo, in cui sembrano che ci prodighiamo, sono compiuti e non sono, cioè sono compiuti non tanto per mettere in mostra a noi stessi o per sentirci appagati, perché questo può diventare appunto ipocrisia dicendo appunto ma quanto sono bravo o quando miriamo a cose che abbiano visibilità per sfuggiare la nostra intelligenza e la nostra capacità e dietro a tutto questo ci può essere appunto un'idea falsa e vale a dire noi che si amiamo è perché noi siamo buoni come se la carità fosse una creazione dell'uomo, un prodotto insomma del nostro cuore. Senti Don Raffaele, la tua, questa vena poetica come ti chiedevo anche prima da dove nasce? Ma guarda, nasce tanti anni fa all'inizio del mio percorso vocazionale quando ho immerso nel creato, nel silenzio, luogo di ispirazione, di incontro con Dio, no? Lì trovai appunto il desiderio di mettere nero su bianco quello che il Signore in quel momento mi ispirava e io nei social mi faccio definire poeta del cielo proprio perché tutte le mie opere che portano appunto questo nome sono ispirate da Dio e dalla Madonna io penso che la poesia sia creazione del cuore, dell'anima umana che si meraviglia dinanzi all'ambiente che lo circonda come fa d'altronde un poeta assumendo lo stesso sguardo di un bambino che non conoscendo si mostra appunto interessato su quello che lo circonda quindi essere poeta è essere attore della tua vita, protagonista anche se l'attore principale poi resta Dio Raffaele, ascolta, ma io adesso sto sfogliando insieme potremmo dire anche ai nostri amici anche diciamo se solamente attraverso il mezzo televisivo questo libro che parla anche di natura come hai avuto modo anche di sottolineare tu che è poi anche il sostrato che c'è alla base di queste opere però una delle pagine se non una delle raccolte eccola chiamerei così più importante è quella dedicata proprio alla pandemia al tempo insomma tragico che tutti insieme abbiamo vissuto in cui si nota anche un cambiamento di stile ora non voglio fare il critico letterario perché non è mestiere che mi compete però diciamo leggendolo questa cosa si nota in maniera abbastanza evidente potremmo dire quale tipo di importanza ha avuto questa stagione della vita della tua vita della vita di ciascuno di noi nella creazione appunto di questo testo vocazione all'amore sì esattamente perché questo testo nasce proprio nel tempo della pandemia marzo 2020 quando appunto siamo stati tutti noi costretti a restare chiusi in casa per giuste necessità vedi io penso che nei momenti di crisi come quello che abbiamo vissuto e che forse ancora stiamo vivendo no bisogna il primo rimedio consiste nel non farci carcerare dalla paura e allora lì ho pensato sì bisogna fare qualcosa bisogna attivare la fantasia e magari rischiare allora mi misi in silenzio in preghiera e lì mi senti ispirato in quel momento di mettere nuovamente nero su bianco quello che il Signore in quel momento mi ispirava perché vedi ci sono dei momenti in cui mi sento rapito dal suo amore ed è proprio in quei momenti che sento il bisogno di fermarmi di mettere nero su bianco qualche riga qualche verso e niente quindi è stato un tempo sicuramente difficile sì difficile per tutti però c'è da ricordare che Dio non è mai essente dalla nostra vita e coraggio va declinato con silenzio orante meditazione della parola di Dio è stato un tempo anche per riscoprire le gioie delle sane relazioni familiari attivando anche un dialogo costruttivo con i propri cari e dando anche un senso al dialogo virtuale insomma internet attraverso il quale anche io rievangelizzo YouTube, Facebook eccetera allora Raffaele ascolta visto che il tempo corre purtroppo la televisione, in televisione il tempo è tiranno io ho detto che all'inizio ecco la copertina del testo e ovviamente ritrae un'immagine molto cara che appunto è la Madonna delle Lacrime di Siracusa santuario in cui tu svolgi ovviamente il tuo servizio il tuo apostolato ti chiederei di essere sintetico nel descriverci il perché di queste immagini anche che ruolo ha avuto questa immagine nella tua vita e nella tua vocazione ma un ruolo fondamentale se sono prete sono grazie alla Madonna delle Lacrime e non parlo di sentimentalismo o semplice devozione parlo di un reale cambiamento di una conversione se da non praticante sono qui ora come prete a raccontare come se fossi caduto in quel momento dal cavallo come San Paolo e il Signore mi chiamava proprio a seguirlo attraverso Maria attraverso la Madonna delle Lacrime infatti ancora prima di discernere la sua volontà la sua chiamata su di me ero appunto come tutti gli altri mi piaceva divertirmi stare con gli amici fare sport e frequentavo la facoltà di scienze e tecnologie alimentari a Catania questo periodo di studio è al contempo di ricerca della mia vocazione iniziata nel dicembre del 2004 quando per la prima volta avverti una chiamata particolare a partecipare alla Santa Messa e sentivo che dovevo regarmi nel santuario della Madonna delle Lacrime e così andai, ascoltai questa voce e mi senti come attratto e proprio durante la celebrazione eucharistica vidi un fascio di luce venire dal volto di Maria l'effigie mariana apposta sull'altare centrale della Basilica questo fascio di luce mi parlò interiormente e mi portò con lo sguardo a guardare i seminalisti che erano presenti durante quella celebrazione ma non ne capivo il perché allora dissi che se il Signore mi stava chiamando a sacerdozio avrei aspettato una seconda chiamata proprio per comprendere che non fosse frutto della mia suggestione dopo qualche mese intorno ad aprile del 2005 negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II ricevo una seconda chiamata più forte e più chiara e dentro di me rimbomba questa parola seguimi racconto tutto a mia madre e subito dopo mi affido alla diocesi di Siracusa per un maggiore discernimento in seguito cosa ho scoperto che negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II c'era il reliquario della Madonna delle Lacrime che il Papa aveva chiesto allora posso dire che la mia è una chiamata Mariana perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime e naturalmente Padre Pio anche lui ha avuto un ruolo importante nel mio percorso vocazionale quindi non parlo io ho capito di una guarigione fisica alla quale non posso neanche attestarla con dei certificati medici magari ipotizzo di essere stato guarito però poi non c'è qualcosa che attesti proprio tale guarigione parlo di un reale cambiamento che da non quasi praticante sono qui a raccontarla come prete come sacerdote quindi qualcosa di vero in quell'incontro probabilmente c'era quindi lo testimonio con la mia stessa vita e Padre Pio si è avuto questo ruolo importante perché proprio durante gli anni del seminario più volte mi rivolgevo ai santi e pensando proprio a lui a Padre Pio mi tornavano in mente sempre queste frasi chi prega poco si può paragonare a chi non prega la preghiera è la migliore arma che abbiamo è una chiave che apre il cuore di Dio chi non prega non ha bisogno del diavolo che se lo porti ma all'inferno con le sue stesse gambe ecco pensando proprio a queste frasi compresi l'importanza della preghiera perché la preghiera nasce dalla consapevolezza della nostra miseria e dalla ricchezza dell'amore di Dio rinsalda la fede fornisce le ali e la speranza da fiato all'amore e riconosce Dio come unico Signore e Salvatore bene Don Raffaele io purtroppo ecco come ti dicevo il tempo è tiranno e la pubblicità mi chiama io però voglio ringraziarti anche se diciamo il tempo è stato breve ma ti invito ovviamente a tenerti disponibile per un prossimo appuntamento in cui magari possiamo scendere più nel dettaglio della tua vicenda che è molto bella e che è anche raccontata qui in questo testo Vocazione all'amore di cui sei l'autore e di cui ovviamente sei anche colui il quale ha scritto un contributo parlando di se stesso in maniera appunto in maniera personale ti ringrazio per essere stato con noi grazie di cuore grazie a voi Vocazione all'amore è il libro di Raffaele Aprile che questa mattina abbiamo voluto per certi versi rileggere ecco anche se saltando tante pagine ma che comunque è un testo molto bello che ci racconta una storia anche essa molto bella grazie ancora Don Raffaele adesso lascio la linea alla regia per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme in diretta grazie a tutti